Esanime è stato strappato dalle fiamme e rianimato dai vigili del fuoco. Una brutta disavventura, fortunatamente con un lieto fine, per questo gatto rimasto intrappolato nell'incendio che questa notte si è sprigionato in un'abitazione di Boscatello, località alle porte di Castiglion Fiorentino. Le fiamme si sono sprigionate in camera da letto per cause ancora in corso di accertamento. I pompieri intervenuti sul posto hanno così provveduto ad omare l'incendio e bonificare l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'episodio, anche se i vigili del fuoco, durante le operazioni di spegnimento, hanno ritrovato il gatto privo di sensi all'interno della stanza. Dopo averlo portato fuori dall'abitazione, è stato rianimato e affidato alle cure del veterinario Alberto Brandi di Castiglion Fiorentino. I vigili del fuoco infine hanno dichiarato inagibile la stanza interessata dalle fiamme e la soffitta sovrastante.